...urgentemente costruito un percorso ribonifica dei siti di interesse nazionale. Restiamo a disposizione per costruttivi confronti su questi temi. Concludo traendo spunto dal motto dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Un medico è due volte responsabile dell'ambiente, come uomo e come professionista. Il politico lo è tre volte in quanto ha il potere di intervenire sulle leggi che lo salvaguardano. Grazie. E' scritta a parlare la deputata Di Benedetto, a due minuti. Grazie, Presidente. Presidente del Consiglio, signori Ministri. Uno degli argomenti che negli ultimi anni ha impegnato maggiormente il dibattito politico è senza dubbio quello relativo all'istruzione, alla cultura e alla ricerca scientifica. Non può essere messa in discussione l'importanza centrale che queste tematiche occupano all'interno di un consorzio civile. Il progresso di una nazione sotto il profilo culturale significa soprattutto progresso dal punto di vista sociale. E un popolo più coeso socialmente e più avanzato culturalmente possiede gli strumenti necessari per svincolarsi dall'impasse, anche economico, nel quale si trova. E' proprio dalla cultura, quindi, anche dall'istruzione e dalla ricerca scientifica, che un Paese deve ripartire per gettare le fondamenta della futura società. Un Governo che possiede la necessaria lungimiranza politica non può che partire dall'educazione sociale, culturale e civile delle future generazioni, dalla valorizzazione delle eccellenze nel campo della ricerca scientifica, da una più efficace tutela dell'inestimabile patrimonio artistico, materiale e immateriale, che un Paese come il nostro vanta. La scellerata affermazione con la cultura non si mangia, già ricordata da una collega, è fia di una concezione politica miope e sterilmente mercatista, che deve essere definitivamente accantonata. I precedenti Governi, allinandosi a tale insensata politica, hanno ben pensato di operare tagli indiscriminati a questi vitali settori, determinando un impoverimento del tessuto sociale italiano che ha avuto e continua ad avere pesantissime ricadute, anche e soprattutto economiche. A voi, signori Ministri, rivolgiamo dunque il nostro preoccupato ma fermo appello affinché è inauguriata una nuova stagione politica tesa alla progettazione di una nuova società, fondata sui valori della cultura, dell'istruzione e della ricerca scientifica, valori che hanno sempre rappresentato un'eccellenza italiana e che oggi insensatamente vengono umiliati e mortificati. Ci auguriamo quindi che quanto affermato possa davvero rappresentare il terreno su cui confrontarci, nella comune convinzione che maggiori risorse riservate ai settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca scientifica rappresentino il fondamentale nutrimento per la nostra società. Il ripristino delle risorse sottratte a tali settori è dunque uno dei primi e imprescindibili provvedimenti che un Governo responsabile e lungimirante dovrà adottare per dare un concreto segnale di un reale cambiamento. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Toffalo, a due minuti. Grazie, Presidente. Gentile colleghi e colleghe, oggi condividiamo le paure dei cittadini in strada che pretendono risposte immediate per combattere un momento di così grave crisi sociale, economica e morale. Oggi dobbiamo fare i conti con una nuova ondata di violenza che passa da una crescita esponenziale della microcriminalità nelle nostre città e culmina in gesti di estrema pericolosità. E come rispondiamo noi? Come affrontiamo queste tensioni? Come aiutiamo la nostra comunità? Semplice. Teniamo bloccate le commissioni, utilizzando l'unica di esse ad oggi realmente operativa come valvola di sfogo per urgenze di palazzo. Siamo anche capaci di perdere tempo per la costituzione di gruppi parlamentari di soli nuovi elementi, come Fratelli d'Italia, che hanno prima l'emosinato favori istituzionali in nome della democrazia, per poi dichiarare, subito dopo, di essere opposizione al padrone che l'ha fatti eleggere. SEL, dopo aver consentito al PD di prendere la maggioranza ed aver bypassato lo sbarramento, oggi diventa opposizione. E spero non giochi una partita ambigua che va, dalle parole forti di un leader alla ricerca del cambiamento spero reale, all'opposizione comoda in linea con il progetto di restaurazione in atto delle istituzioni. Poi c'è la Lega, che senza provare alcuna vergogna si reinventa.